Per la ginnastica romana la via Maroncio, con l'etteggio femminile, la sezione sportiva Prolissone Ginnastica, Eleonora Gazzani. Per la sezione maschile, sparra la sezione ginnastica Procarato, Tommaso Frigerio. Parallelettari, la sezione ginnastica Virtus Pasquanetti, Andrea Cinggolani. Paranelle asimmetriche, forza e virtù, 1892, Giulia Gemme. La prima sezione femminile, la sezione sportiva Polos Ginnastica, Giorgia Campana. Grazie.